Dai Luca, sei elegantissimo. Che miso, che miso. Vabbè, basta, mandato a casa tutti. Luca, sei un vero damerino. Marco Tortoiolici. Perfetto, ci siamo quando volete. Ovviamente tutto pigiama, immagino, Luca. Tutto sì. Luigi Martina. No, è che lui essendo il grafico come grafico doveva anche vestirsi come grafico come grafico. Allora, il lavoro di Luca mi fa piacere perché si ricollega un po' anche Francesco al lavoro che ha presentato Sebastiano prima perché Luca a un certo punto si interessa appunto di quanti sconfinamenti noi cominciamo a fare o siamo chiamati a fare o ci viene voglia di fare rispetto a quello che solitamente si considera il nostro lavoro, no? E quindi soprattutto riguarda un aspetto che è quello dell'autorialità. Allora, noi siamo abituati a pensare all'autorialità come una questione dello stile formale che ognuno di noi mette nelle cose che fa, ma in realtà Luca comincia ad interessarsi di come l'autorialità possa invece andare oltre il concetto di stile personale e spostarci più nell'area in cui un progettista, un designer come autore si interpreta se stesso come una sorta di mediatore, no? che è in grado di ridefinire soprattutto qual è il contesto a cui applica il tutto il lavoro. E ci sono alcune figure da cui siamo partiti, ci è piaciuto per esempio ricordare come già Elisinsky... Ah no, non sei bloccato Jonathan, scusate, l'ho visto frizzato. Ci è piaciuto ricordare come per esempio lo stesso Elisinsky che forse è l'artista autore per eccellenza, anche interprete di un ideale politico molto forte, in realtà col suo abstract cabinet invece fa una sorta di passo indietro e crea uno spazio, è un contesto in cui ospita opere di altri, dandosi il ruolo di critico, assemblatore, di mediatore di una stagione dell'arte e di una temperie artistica che in quel momento lui voleva fosse rappresentata, ma pensando anche al contesto in cui questo doveva accadere. Ecco Luca, si è preso un po' questa sfida qua, andando anche a parlarne con un po' di persone, secondo me ha fatto veramente un ottimo lavoro che è prodromico di buone cose in futuro. Vai Luca. Ok, grazie. Grazie al professor Tortoioli per l'introduzione e adesso vi condivido lo schermo con la presentazione. Allora, come accennava poco fa il professor Tortoioli, la mia ricerca parte appunto con l'obiettivo prima di tutto di indagare quello che è stato il ruolo del grafico e come è cambiato soprattutto negli ultimi anni e per farlo ho scelto di affrontare principalmente quella che è stato il dibattito attorno alla questione del design res e quindi di chi è nel tempo ha sentito il bisogno di paragonare il mestiere del grafico ad altri ruoli o mestieri quasi come a volerlo nobilitare. Per affrontare poi questo tema ho scelto di interessarmi anche appunto della questione dell'autore ma di introdurre anche un'attenzione a quella che è la questione e l'esistenza di una critica in campo grafico appunto intervistando anche tre professionisti che si sono occupati nella loro carriera diciamo di ambiti diversi per portare appunto dei contributi inediti oltre al mio parere. Questi professionisti sono stati Anna Steiner, Gianfranco Turri e Carlo Vinti. Tutto è partito da queste due immagini che vi sto mostrando adesso. Sono due slide che sono tratte da due conferenze tenutesi entrambe nel settembre del 2017, tra l'altro pochi giorni prima che io entrasse a far parte di questa scuola. Ecco appunto queste due slide di Thomas Castro e di Peter Bilac tenutesi una a Londra e una a Parigi raccontano un po' quella che è la questione del designer as che pareva però essersi fermata soprattutto negli ultimi anni. Come possiamo vedere nella slide sulla sinistra di Thomas Castro lui introduce la questione in modo diverso. Inizia la conferenza parlando della problematica della template culture, ossia della proliferazione, dell'esplosione di tutti quei siti web o servizi digitali che oggigiorno permettono a chiunque di poter realizzare un artefatto grafico anche senza conoscere nulla della progettazione. Per questo motivo lui introduce la sua tesi di designer plus incitando soprattutto quelli che sono gli educatori e appunto i docenti che sono più a contatto con i designer del domani, i giovani designer a diventare dei designer plus e quindi dei grafici che hanno un proprio metodo di ricerca basato su non solamente su una ricerca di reference e di immagini che vengono trovate online ma che invece appunto hanno coscienza piena di quello che è il proprio lavoro. D'altro canto invece la slide sulla destra di Peter Bilac prende un po' diciamo in modo più ironico e provocatorio quella che è la questione del dibattito del designer as ma che possiamo intendere quindi di come il grafico in base al lavoro che realizza e all'ambito in cui gli viene chiesto di realizzarlo effettua quindi questa sorta di sconfinamento negli altri campi. Ecco da queste due slide oltre a venirmi l'idea di parlare di questo argomento sono nate poi successivamente anche dei dibattiti, degli scambi di idee da parte di designer online e degli articoli e c'è stato anche chi ha affermato che oggi il grafico come grafico non possa più esistere e per questo ho scelto poi di indagare il perché questo secondo alcuni non è più possibile ma in un certo senso bisogna accostare per forza di cose un altro mestiere a quello del grafico quasi a volerlo nobilitare. Per quanto riguarda la questione dell'autore appunto come accennava anche il professor Tortoioli ho scelto di partire da quello che è il caso un po' simbolo di multidisciplinarietà non solo in campo grafico ma anche in campo artistico quindi con l'abstract cabinet di Lisischi che diventa allo stesso tempo curatore, artista, designer di questa sala di 20 metri quadrati che lui va a progettare nei minimi dettagli. Per quanto riguarda invece il campo grafico ho scelto di iniziare parlando di quello che è stato un po' partendo proprio dal significato del mestiere di grafico appunto partendo proprio da citando le parole di Albe Steiner molto vicino anche alla nostra scuola. Ecco intervistare la figlia Anna mi ha fatto capire soprattutto che mi ha gentilmente ospitato nello studio storico dove Albe e Lika Steiner, la moglie, hanno lavorato fino alla loro scomparsa mi ha fatto capire come la dedizione a questa materia, a questa disciplina fosse portata avanti in modo quasi unico e quasi come una militanza. Ecco bisogna, basta pensare che loro avevano fatto costruire una stanza da letto nello studio grafico dove lavoravano e per loro era inscindibile la parte di lavoro o dalla vita privata. In altri campi, poco tempo dopo, diciamo nel 64, ci sarà il manifesto importante First Things First di Ken Garland che incita insieme ad altri professionisti ai grafici a non occuparsi solamente di quello che era pubblicità o consumismo ma l'incita appunto ad occuparsi di cose più importanti soprattutto in vista di quello che stava accadendo in quel periodo e pochi anni dopo, sempre tornando ad Urbino al lavoro di Steiner nel 69 in Italia, viene posto quello che forse è il primo passo per quella che poi sarà la successiva e fortunata stagione di grafica di pubblica utilità quindi con il lavoro della grafica e segnaletica per il centro storico di Urbino appunto. Sulla scia di quegli anni della grafica di pubblica utilità è poi nell'89 che in Italia verrà redatta la carta del progetto grafico, un incontro da parte di alcuni progettisti italiani anche grazie alle assemblee create dall'IAP che definiscono in sette punti, cercano in un certo senso di voler anche in Italia affermare quello che era il ruolo del progettista grafico ma lo fanno cercando di collegare la tradizione a quello che era poi il futuro e quindi in un certo senso la rivoluzione digitale che personal computer e internet stavano portando in quel periodo. In ambito internazionale invece nel 72 fu importante il dibattito di Wim Crowell e Jan Mantorn su due idee completamente diverse tra i due designer esponenti della grafica olandese quindi di chi come Jan Mantorn pensava che il progettista grafico dovesse metterci del suo o impegnarsi per rendere la comunicazione più complessa e chi invece come Crowell pensava di portare avanti l'idea un po' filomodernista appunto quindi di una grafica più razionale con la relativa scomparsa da parte del grafico successivamente negli anni dopo, sempre in ambito internazionale ci sarà una riedizione di First Things First che rispetto al primo, negli anni 2000, rispetto al primo se lo si legge bene muoverà una critica ancora più forte verso quello che era il sistema socio-economico di quel periodo, sulla sci anche di quello che era stato il discorso di Catherine McCoy che incentrava i designer a diventare dei buoni cittadini prima di tutto. ecco però quando si parla di autore è impossibile non menzionare quello che è stato l'importantissimo saggio scritto da Roland Barthes nel 67 che appunto dichiara la morte dell'autore anche in altri campi e soprattutto in ambito della letteratura ecco lui ci dice che quando incontriamo un testo scritto non dobbiamo più chiederci cosa intenda l'autore con quelle parole ma cosa intendano le parole stesse e Barthes vuole trasportare questa sua idea anche in altri campi della comunicazione diciamo in altri campi della produzione in generale le opere saranno sempre riferite solamente al lettore e di chi ne soffruisce ovviamente questo è anche da contestualizzare a quello che stava accadendo in quel periodo quindi al maggio francese del 68 e alla rivoluzione che il mondo occidentale stava portando in quel periodo ecco anche in altri campi invece oltre a quello della letteratura e della grafica nel cinema ad esempio la politica degli autori di Truffaut definisce in un certo modo quello che stava avvenendo nella grafica ovvero elevarsi alla figura di autore significava in un certo senso portare la disciplina che era ritenuta magari di importanza minore rispetto ad altre ad un livello successivo in ambito grafico è Michael Rock che nel 66 scrive sulla rivista i magazine un articolo molto interessante che indaga appunto questo dibattito che entrava nel vivo proprio negli anni 90 dove non propone più la figura di autore ma propone appunto tre modelli alternativi che sono il designer come traduttore come attore e come regista ma la cosa più importante secondo me che mi ha fatto ragionare che ci chiede alla fine dell'articolo che importanza ha oggi chiederci chi abbia progettato qualcosa se interessa solamente magari alla cerchia di grafici che se ne interessa oppure dobbiamo chiederci solamente se quel lavoro sia valido qualitativamente oppure no per farlo per questo motivo ho scelto anche di affrontare quella che è la disciplina critica in campo grafico chiedendomi appunto come mai dato che a noi studenti spesso ci viene ripetuto di non smettere mai di studiare ecco come mai oggigiorno non si possa ancora affermare con certezza che esista una critica in campo grafico o perlomeno che sia paragonabile a quella di altre discipline in questo saggio del 1891 in ambito appunto della letteratura Oscar Wilde paragona l'artista alla figura del critico e viceversa perché definisce appunto il critico secondo me in una maniera perfetta ovvero come colui che non deve solamente realizzare un resoconto di ciò cui assistito facciamo l'esempio di uno spettacolo teatrale ma deve partire da quella base per realizzare un'opera a sé stante proprio come faceva l'artista ecco ad esempio in altre discipline come quella teatrale fu abbracciata la teoria di Oscar Wilde anche dal genio e drammaturgo attore italiano Carmelo Bene che diciamo per un certo periodo della sua carriera decise anzi pretese di non essere più recensito dai critici teatrali ma solamente da quelli sportivi che secondo lui erano gli unici a intravedere il gesto estetico che lui riusciva a portare in scena ecco tornando all'ambito grafico sempre sulla rivista i Magazine Michael Rock e Rick Poiner si interrogano su quale sia appunto il significato di critica ma soprattutto nel 95 tentano si pongono l'obiettivo di istituirne una partendo proprio da quella rivista parlandone invece con Carlo Vinti in ambito italiano ho scelto di riportare questa sua diciamo citazione quando gli ho chiesto appunto come mai in Italia ci fossero questi problemi legati alla disciplina critica ecco appare evidente che ad esempio negli anni 50 e 60 in Italia esistevano figure di intellettuali che si occupavano anche di grafica come Umberto Eco, Dorfless o Fortini perché era il linguaggio del momento che riguardava tutti e che quindi in un certo senso veniva toccato anche da figure esterne oggi invece è difficile che la grafica possa interessare la maggior parte di persone o perlomeno ci sia diciamo c'è un'evidente mancanza di un mercato di un pubblico a cui destinare questa critica d'altro canto infine ho scelto anche di parlare di indagare quello che è stato e come è stato utilizzato il termine critico rispetto alla grafica soprattutto contemporanea è un esempio la mostra Forms of Inquiry curata da Zach Heiss e Mark Covens itinerante partita nel 2007 che metteva in mostra proprio il lavoro di alcuni designer che appunto vengono definiti designer critici e che effettuano appunto un'indagine critica nel loro lavoro ovviamente l'esplosione di come accennavo inizialmente della template culture ma anche di blog e siti web non ha fatto che inasprire il dibattito come anche invece la questione del do it yourself ecco un esempio è il blog Critical Graphic Design che è il primo ad apparirci se scriviamo queste parole su un motore di ricerca ma che non fa critica ma solamente ironizza su quelli che sono i protagonisti di questo ambito della grafica critica appunto per concludere un po' quello che già ho voluto dire nel titolo della mia tesi è che secondo me un giovane che si appresta al mondo del lavoro può essere ancora convinto di diventare grafico come grafico senza sentire il bisogno di paragonarsi ad altri mestieri come magari alcuni ipotizzano quello dello scrittore per far sì che il suo mestiere di grafico venga nobilitato per questo motivo ho scelto di concludere citando un breve testo di Sergio Polano che individua appunto la grafica come la disciplina specifica che reclama addestramento, inclinazioni e strumenti adeguati frutto di applicazioni, conoscenze e studio tutt'altro che improvvisabili e genericamente disponibili al contrario di quanto parrebbe supporre la confusa nozione che ne ha la civilizzazione della nostra epoca grazie per l'attenzione grazie Luca ma quindi tu che grafico sei? per il momento grafico come grafico ma anche molto elegante grazie grafico vorresti essere? per il momento ho scelto appunto di intraprendere questa strada ovviamente legata anche a quella che è il mio percorso di studi quindi di grafica editoriale però diciamo ho usato la tesi quasi come pretesto nel voler far trasmettere questo mio pensiero questo mio messaggio e quindi trovandomi anche nel lavorare a questa tesi mi sono sentito quasi come scrivendo appunto dei testi che facciano capire il mio messaggio mi sono sentito quasi come dall'altro lato della medaglia quindi senza la parte del grafico e quindi capisco come magari un giovane che conclude il suo percorso di studi possa sentirsi in difficoltà quando magari legge degli articoli oggi sul web che lo incitano a diventare per forza di cose qualche altra cosa per appunto nobilitare quello che è il suo mestiere ecco secondo me già la parola di designer o grafico che sia ha un significato appunto intrinseco che è un po' anche quello che ho detto quando parlavo del designer plus di Thomas Castro inizialmente quindi di un designer che ha coscienza di quello che fa che con un proprio metodo di ricerca riesce a porsi le giuste domande ma a trovare anche le giuste risposte a quelle che appunto sono le domande che gli vengono poste grazie ci sono domande? ma io sarei curioso di vedere il libro non so se c'è una modalità per me l'ero immaginato sì diciamo che nella progettazione del libro ho scelto poi di tenere nascosto nella letta il appunto grafico come grafico e ho scelto principalmente poi di realizzare il libro come se fosse appunto qualcosa che va da letta e che in un certo senso tenga ben collegate sia le immagini che il testo grazie Jonathan sfoglio un po' per quello più possibile grazie grazie per la prossima sessione di tesi online ci vuole uno sfogliatore automatico speriamo di non averne bisogno davvero va bene allora io se siete d'accordo passerei a Guglielmo Turbian poster post air relatore Alessandro Carrer a cui lascio la parola grazie la rima soltanto post air Carrer no intanto intanto io come premessa voglio ringraziare Guglielmo perché io non sono un docente del triennio è la prima volta che mi è capitato di fare dell'alettore uno strumento del triennio e mi sono divertito tantissimo intanto grazie Guglielmo perché è stato devo dire sono anche guardando gli altri prodotti editoriali che c'erano oggi siete davvero rigorosi da questo punto di vista quindi complimenti la tesi di Guglielmo è una tesi sul poster sul poster cinematografico però non è un non vuole essere un catalogo e neanche una raccolta più o meno esaustiva sul poster cinematografico in un certo periodo storico in un certo lasso di tempo piuttosto è mi pare il tentativo di analizzare il poster cinematografico come uno strumento quindi uno strumento di sintesi di narrazione di promozione del film evidentemente muovendo da quella che è la storia della key art del poster cinematografico attraverso l'opera e la mano di alcuni dei suoi più noti autori e con il tentativo invece di arrivare poi fino come dire ai giorni nostri nel modo in cui come dire la key art influenza o viene influenzata dalle grandi piattaforme digitali come Netflix io direi prego Guglielmo raccontaci buonasera a tutti mi sentite? mi vedete? mi sentite? sentiamo sì 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 perfetto ok lo ringrazio intanto il mio redattore per la bella presentazione condivido subito lo schermo ok vedete? sì ok allora vorrei cominciare questa presentazione con un paio di domande che mi ero fatto all'inizio di questa ricerca innanzitutto cosa ci convince nell'andare a vedere un film perché siamo innamorati di un genere cinematografico piuttosto che di un altro magari perché poi nonostante il trailer sia un grande strumento per comunicare un film rimane comunque spesso più impressa nella nostra mente la sua locandina se ben fatta e ho chiamato appunto questa tesi poster perché partirò dall'analisi del poster ma per concentrarmi di più su quella che è la sua evoluzione e guardando diversi film nell'arco della mia vita mi sono reso conto che i messaggi principali non erano quelli che passavano in maniera più esplicita ma quelli che passavano attraverso simboli metafore icone e quindi mi sono chiesto quanto sarebbe stato interessante capire come riassumere questi simboli attraverso magari una sola immagine per l'appunto ok questa tesi quindi non è una raccolta appunto di manifesti e si pone però l'obiettivo di indagare ciò che rende efficace l'immagine contenuta in un manifesto cinematografico con un sguardo rivolto sia a sospetto simbolico che di vendita qual è quindi il modo migliore per rappresentare un film? allora fin dall'inizio della storia del cinema con l'uscita dalla fabbrica Lumière dei fratelli Lumière o dai successivi corti pubblicitari come il famoso corto per la Sunlight Soap una nota marca di saponi dell'epoca e si è capito che la culla del cinema fosse la pubblicità l'obiettivo del poster quindi inizialmente era quello di vendere semplicemente i biglietti non aveva intenti artistici potremmo dire contemporaneamente citando ad esempio Sven Brasch noto poster designer danese lui disse a mio parere per prima cosa bisogna riconoscere che il miglior manifesto è quello che meglio raggiunge il proprio scopo e che allo stesso tempo ha un valore artistico quindi ad esempio facendo un passo negli anni 60 della Polonia in Polonia ci rendiamo potevamo vedere quanto le sale polacche fossero sempre molto piene di gente la gente ci andava quasi a prescindere non c'era quindi un bisogno promozionale da parte del manifesto ma più educativo gli artisti quindi dell'epoca riuscire riuscire a utilizzare un linguaggio decisamente innovatore artistico senza dover rispettare nessun canone preimpostato perciò e posso vedere come ad esempio in questo caso lo stile sia totalmente riconoscibile e diverso da quello delle grandi produzioni americane ad esempio come vedremo ora e questo è un esempio di una varietà di formati che erano presenti che erano utilizzati tra gli anni 40 e 80 principalmente negli Stati Uniti ognuno aveva un compito diverso potremmo dire e esistevano in questa grande quantità in quanto ognuno aveva una sua funzione e riuscivano a presentare in diverse maniere un unico film l'unico film che era presentato nelle monosale dell'epoca in quanto non esistevano i multisale arrivarono poi gli anni 80 e successero quattro cose principali che rivoluzionarono un pochino il mondo del cinema e da un lato arrivarono le VHS e quindi nella maggior parte delle case degli americani parlando ad esempio di questo caso sempre in America e arrivarono le VHS e i videoregistratori i monosala vennero quasi totalmente sostituiti man mano dai multisala arrivò l'avvento digitale e programmi di manipolazione digitale come Photoshop e l'NSS la National Screen Service appunto perse il monopolio ovvero quello di distribuire i manifesti sul suolo americano su tutti quanti in monosala a discapito di un utilizzo più individualista diciamo una gestione più individualista da parte delle case di produzione singole soprattutto per quanto riguarda la questione delle VHS ci fu un problema ovvero che le copertine delle VHS erano un nuovo supporto da utilizzare il poster quindi dovete essere scalato quindi subì questo processo di scalabilità perdendo quello che era il suo valore intrinseco cartaceo che aveva avuto fino a quel momento ci fu quindi da allora una separazione atta separare il poster cartaceo in sé da una parte dalla key art che sarebbe l'immagine che scevra dalla sua componente cartacea semplicemente la key art definita anche dall'Hollywood Reporter come l'immagine iconografica singolare che è la base su cui è costruita la campagna marketing di un film o di un qualsiasi altro prodotto e quindi il manifesto in generale è comunque peculiare nella sua macro categoria il manifesto cinematografico è peculiare nella sua macro categoria di manifesti pubblicitari e questo perché deve introdurre un testo ovvero il film che possiede dei linguaggi e stilemi propri e attraverso un linguaggio chiaramente differente quello paratestuale quindi potremmo dire che dal film si instaura un processo di traduzione nel manifesto che di conseguenza deve inviare un messaggio ricevente il pubblico che di conseguenza si sarà convinto andrà a vedere e principalmente nella key art nel manifesto viene utilizzato un piano connotativo per comunicare quindi attraverso il piano connotativo ovvero responsabile dei messaggi di tipo culturale ed estetici si provoca in chi osserva delle reazioni emotive che lo spingono ad immaginare un mondo che è al di sopra del messaggio denotativo ovvero quello che fornisce le informazioni basilari e quindi di conseguenza la key art deve contenere chiaramente in considerazione il contesto socio-culturale anche ad esempio da un punto di vista geografico semplicemente è interessante però guardare questo paratesto anche come un testo a sé stante in quanto possiede un approccio comunicativo totalmente unico che può risiedere in confini tra tradizione modernità narrazione simbolismo ma soprattutto tra linguaggi artistici e di marketing ricordiamoci quindi di questa dicotomia qui ad esempio sono esposte alcune tipologie differenti di poster che vengono utilizzate per la campagna di promozione di un film di una grande produzione non sono diversi in quanto abbiano un diverso formato ma la diversità sta nella funzione ad esempio possiamo vedere il primo che è un teaser poster che serve per preannunciare praticamente un film o il character poster che serve che ha il compito di presentare i personaggi in un film ma concentriamoci più che altro sul fatto come vediamo nelle due immagini sottostanti di quanto un film possa possedere anche decine di diverse tipologie di poster questo sia per un concetto di riuscire a coprire il più ampio spettro dal punto di vista del contesto appunto socioculturale e anche per riuscire a comprendere spesso diversi gusti Thomas Oposinski Art Director e Poster Designer in una conferenza disse quanto un processo in queste agenzie che lavorano con queste grosse pubblicazioni di film il processo può durare fino a due anni per quanto riguarda il periodo tra il teaser poster e il payoff ovvero quello che si occupa della pubblicizzazione dell'on video lui disse anche che in questa tipologia di agenzie viene usato molto il data drive and design attraverso anche supporti quali i tag e l'abitesting continuo ovvero ogni manifesto viene taggato in base alle componenti che questo presenta in maniera da attraverso poi degli abitesting per capire quali versioni funzionano meglio nel pubblico e capire successivamente quali siano gli elementi appunto i tag che abbiano funzionato meglio o peggio poi nella nella sua storia Netflix è il re del data drive and design e si focalizza sulle continue ricerche basate sui gusti a interpretare i gusti dell'utente e questa qua ad esempio è la home di Netflix come la conosciamo e possiamo vedere quanto il punto focale siano semplicemente appunto le immagini che chiameremo che possiamo chiamare miniature o fanness attraverso quindi queste diverse ricerche Netflix è riuscita comunque a tenere molti dati tra cui un paio che vi presento come il fatto che un utente nel momento in cui entra su Netflix dedica in media 1,8 secondi per titolo per decidere se un titolo gli piacerà o meno finiti questi 1,8 secondi solitamente passerà al successivo contemporaneamente nel momento in cui passeranno 90 secondi sempre in media nel momento in cui non avesse trovato niente che lo soddisfi tra virgolette uscirà dalla piattaforma e per quanto riguarda quindi per ovviare quindi questo problema potremmo dire e per gestire quindi le miniature che risultano essere il punto focale decisivo Netflix ha deciso di utilizzare due principali modalità per per inserire queste miniature uno attraverso la key art ovvero l'immagine che può essere già presente nella campagna promozionale di un film quindi attraverso un contesto magari di adattamento da un eventuale poster un'altra attraverso la scelta di uno dei frame del film attraverso AVA che AVA sta per Aesthetic Visual Analysis è una serie di strumenti ed algoritmi che processano tutti quanti i frame di un film in media per farci un'idea un film di 90 minuti registrato a 24 frame al secondo contiene circa 130.000 frame e quindi questo questo strumento è automatizzato su dei parametri preimpostati quali esposizione dell'immagine contrasto nitidezza riconoscimento facciale possibilità di presenza di nudo anche e successivamente riesce a scartare o selezionare quelli che possono essere i migliori frame successivamente tutto questo passa al al grafico che avrà l'obiettivo di selezionare ulteriormente quelli che sono i frame e inserirci la parte grafica o la titolazione qua possiamo vedere ad esempio decine di immagini per un unico titolo e pensate per riuscire ad attirare con ognuna di esse il maggior numero possibile chiaramente di utenti attraverso quindi continui test operazioni di remarketing sarà possibile vedere lo stesso titolo in diverse occasioni con immagini sempre diverse per rendere ancora più chiaro questo concetto ad esempio nel momento in cui io io ipoteticamente fossi appassionato di commedie comiche nel momento in cui mi battessi in goodwill hunting e probabilmente in copertina vedrei mi potrebbe capitare di trovare robin williams in quanto noto comico nel momento in cui ad esempio la mia ragazza che fosse si fosse innamorata di commedie romantiche in generale potrebbe essere che vedendo trovandosi questo fin davanti potrebbe trovare mad demon e mini driver nel lato di baciarsi come in questo caso parlando sempre di gusti facendo un passo indietro alla sua origine diciamo tra il 30 e il 55 sempre in america ci si reso conto che da parte delle grandi produzioni che c'era bisogno un bisogno di standardizzazione di un sistema di universal appeal potremmo dire nacquero quindi i generi come punto di incontro tra case di produzione e pubblico il vantaggio delle case di produzione quindi era quello di una diminuzione generale dei costi attraverso una sorta di sviluppo in serie dei film dall'altro canto il vantaggio del pubblico era quello di avere una garanzia di apprezzamento data dall'evidente somiglianza con precedenti film di un nuovo film X che sarebbe uscito ogni genere chiaramente avrebbe posseduto da lì in poi delle sue peculiarità e una sua organizzazione sintattica il manifesto quindi subì chiaramente subito questa rivoluzione non avrebbe avuto senso questa rivoluzione senza un sistema per promuoverlo diciamo il genere quindi era una soluzione per recare più informazioni di quelle contenute nella singola key image attraverso quindi figure retoriche in contesti altrettanto spesso retorici come la presenza di una star la tipologia di un personaggio presentato un clima di spettacolarità di azione orrore amore dramma farò ora una veloce analisi di un sottogenere tanto per rendere più chiaro questo solo di stringere in un paio di minuti guglielmo certo 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 sono alla fine per quanto riguarda ad esempio cosmic horror è un genere letterario inventato da H.P. Lovecraft e ha subito diverse è stato fortunato in quanto è stato ha subito diverse trasposizioni cinematografiche e possiamo vedere quanto ci siano delle attinenze formali in questo genere con le traduzioni visive dei sentimenti del romanticismo come ad esempio in Friedrich il quadro di Friedrich sul viandante del viandante su Maria di Nebia e vediamo quanto nei posti sottostanti le caratteristiche visive siano concentrate nel trasmettere di più il rispetto emotivo e percettivo dell'uomo in queste che hanno una composizione quasi identica potremmo dire le luci il contrasto molto alto la sotturazione bassa collaborano per riuscire anche a evidenziare quella che è la separazione tra il protagonista e lo spazio circostante reso oscuro misterioso inquietante incompressibile soprattutto ogni componente quindi è interessante vedere come rappresenti spesso sia se stessa che la metafora di se stessa e attraverso l'utilizzo di molte figure retoriche tra cui ad esempio una metonimia dove la torcia rappresenta l'esplorazione del vuoto iperbole dove c'è una grossa differenza atta a separare appunto il personaggio dall'ambiente circostante o l'antonomasia dove l'uomo il protagonista magari rappresentato rappresenta anche l'uomo l'umanità per l'antonomasia la ricerca di se stesso o di qualcos'altro difficilmente potremmo chiamare queste cose sempre ancora ricorrenze sarebbe più corretto ormai chiamarli cliché questa sono tutta una serie di esempi di poster appunto che hanno adottato soluzioni molto semili tra di loro e ad esempio molto utilizzata la soluzione del primissimo piano di un occhio per un film mostruoso per un film horror o l'adozione di codici visivi sessuali omologati che utilizzano due gambe di donna per attirare l'attenzione ma soffermiamoci di più sul colore in conclusione perché lo ritengo appunto più interessante attraverso quindi l'istituzione di una palette con ombre bluastre e luci arancioni quindi potremmo dire una variante del Telen d'Orange come è conosciuto e attraverso quindi questa ritirazione inserita si è riusciti a creare un codice visivo per il blockbuster e quindi nel momento in cui io vedessi un nuovo film uscire che presenta questa palette di colori probabilmente inconsciamente o meno lo ricollegherei a un blockbuster quindi mi ha capito che le grandi produzioni principalmente usano affidarsi a studi più improntati su quello che è un aspetto di marketing con un linguaggio più protocollato tra virgolette citando Scott Bendall direttore creativo presso la bocca una volta che un film ha avuto un buon scontro con un particolare stile di poster è probabile che lo stile venga replicato sul genere in quanto è stato considerato un design di successo e il designer quindi deve appunto applicare un atto di bilanciamento da creatività chiaramente artistica chiamiamola per non mettere in termine e collaudato con spesso la direttiva di ottenere i risultati più alti possibili abbiamo capito sto concludendo che qualsiasi emozione genere tema o tono di voce di un film sia riassumibile in uno schema visivo Woody Allen ad esempio diceva che i manifesti ispirazione solbassiana come quelli che possiamo vedere vengono identificati spesso dal pubblico come film di autori americani indipendenti Sussurr d'altronde diceva che ogni linguaggio assume significato nel momento in cui i segni che lo compongono si ripetono abbiamo capito quindi in finale che i linguaggi artistici e di marketing spesso debbano coesistere per poter trasmettere un messaggio nel modo migliore chiamiamolo ma vorrei concludere soffermandomi su un pensiero quello secondo il quale se sostituissimo nel processo illustrato poco fa che vedete il designer alla key art ci potremmo rendere conto di quanto il risultato della formula tutto sommato non cambi potremmo dire che il designer assuma similmente quindi il ruolo di paratesto per un ex prodotto da presentare e che il suo compito appunto sia trovare il modo migliore chiaramente di presentarlo al pubblico attraverso un linguaggio più appropriato grazie 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 e solo una cosa veloce tu hai selezionato una serie di materiali per cui portare avanti la tua ricerca come li hai selezionati visto che è un ambito determinato comunque assolutamente allora principalmente le prime cose che ho fatto è stata chiamare subito il museo del cinema di Torino ad esempio e poi capendo che forse la maggior parte del materiale che potessi trovare in maniera più efficace diciamo era la Cineteca di Bologna mi sono recato alla Cineteca di Bologna dove ho potuto visionare veramente molti cataloghi appunto di manifesti contemporaneamente poi per quanto riguarda l'utilizzo di quelli che ho appunto inserito nella tesi principalmente mi sono comunque rifatto a cataloghi digitali che spesso mostravano la possibilità di riuscire a trovare diverse appunto tipologie di poster in base al titolo anche se selezionando semplicemente un titolo grazie a lei a voi ci sono domande no no tutto chiaro perfetto e allora a questo punto io metterei le candidate e i candidati un attimo in attesa e non ci vuole grazie 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 grazie